Salve a tutti, oggi vi presento Matisse. Matisse è una verità che arriva in epoca di maturazione più 7 Big Top. Siamo fra Atanais e Clarisse, con un'epoca di filitura precoce, non extra precoce. E siamo con una verità che ha le stesse componenti organoetiche della Atanais e della Clarisse e della Mombago. Stiamo cercando quindi a livello della genetica PCB di andare su un frutto che arriva ogni settimana con le stesse caratteristiche del frutto, che il consumatore comunque riconosca la genetica PCB con queste varietà che hanno un potenziale produttivo molto elevato, un calibro dominante 2A e oggi noi siamo in Francia per presentare la varietà in un campo di seconda foglia. Quindi varietà Matisse, ricordatevi bene questo nome, fra Atanais e Clarisse.